Ciao! Ciao! Allora guarda, qui ho un mazzo di carte, ma lo voglio lasciare sul tavolo perché in realtà voglio utilizzare con te questo mazzo di carte invisibile e ti chiedo, prendi una carta, quella che vuoi Prendo eh! Vai! Oh, guardala bene, mi raccomando eh! Che carta hai scelto? Sette di cuori! Sette di cuori? Sì! Guarda, è incredibile perché qui avevo questo mazzo di carte giganti Ti faccio vedere E tra tutte queste carte qui c'è una carta Soltanto una girata di dorso E la cosa più incredibile è che questa carta è proprio il set di cuori Grazie a tutti!